Quindi lo hanno arrestato, il porco maledetto schifoso verme che l'unica cosa che dovevi fare era quella di suicidarti, l'hanno beccato in Germania mentre faceva benzina con i soldi, con le banconote insanguinate. Porco maledetto vigliacco, porco maledetto vigliacco, porco maledetto vigliacco, che tu sia maledetto, che tu sia maledetto. L'unica cosa che dovevi fare era quella di imbiccarti. Visto e considerato che non c'è la pena di morte, mettetelo in galera, naturalmente con l'ergastolo, e possibilmente mettetelo in qualche zona del carcere, dove ci sia qualche ergastolano che faccia giustizia. Porco maledetto schifoso.